bella ragazzi qui raptor e oggi siamo qui con il decimo episodio del ruoto commander su black ops 2 scusate per la tosse raga volevo prima di presentarvi il gameplay volevo dirvi che se parlo un po male è perché mangiando perché sono un sacco di merda a mangiare mi sono tagliato la lingua quindi faccio un po fatica a parlare a voce alta quindi cerco di tenere la voce un pelino più bassa del solito ma muori muori ok comunque raga oggi siamo su guerra terrestre in uccisione confermata perché volevo provare il type 25 se si chiama così sto fucile d'assalto abbastanza non muore perché non muore abbastanza negli muori 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 bravissimo ok muori no vabbè comunque raga volevo dirvi una notizia molto importante che penso che molti di voi apprezzeranno che non so bene il giorno è preciso perché ci siamo messi d'accordo così ieri sera però abbiamo parlato proprio per pochissimo sto parlando di dad perché non avesse capito perché mi ha scritto per farmi gli auguri di compleanno ci siamo messi d'accordo diciamo per per fare un commentare insieme non so quando spero più presto possibile così da portarvelo anche a voi sul canale e vai muori ok e spero vi possa far tanto piacere perché so che vi diverte un casino sentire i suoi commenti mori i suoi commenti dov'è hai qua dietro dai che lo killo ragazzi quando vuoi lo killo spero no ebbe perché quando vado avanti io a guardare lui esce naturalmente vabbè allora cerchiamo di tirare una granata là sopra comunque ragazzi scusate veramente per la voce ma sembra un dislessico perché c'ho malissimo la lingua aia allora qui dovrebbe esserci un nemico stronzo giù là eccolo là preso no 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 non ammazzarmi eh si cerchiamo di fargli il giro dello spawn voglio provare a fargli il giro mamma mia voglio provare a fargli il giro dello spawn so già che questa partita finirà male perché è iniziata male raga però non si può vincere sempre allora qua ce ne ho uno che cazzo vuoi fare intanto raga ho livellato siamo passati al livello 20 muori muori mamma donna non muore chi è che mi continua a killa eh con quello lì col bastardo con la n94 che rompe le palle si dai spacca la torretta spaccati i coglioni testa di cazzo allora granata la al centro mappa e noi ce la filiamo di qua facciamo il giro dietro il giro il giro il giro il giro tanto scappa perché questi qui so già che entrano a sparare con le mitragliette e poi te lo pizzano su per il avete capito allora andiamo subì la 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 muori ok adesso devo cercare di capire ma non ci credo i compagni non l'hanno visto ma dai ma fate cagare mettetevi un paio di occhiali se non vedete la gente madonna ma quanti colpi ci vogliono per ammazzarne uno con un fucile d'assalto cazzo con una mitraglietta ci mettete tre quarti di meno non muore non muore non muore eh eh medaglia 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 attacco fulminio raga dai uno due e tre la proviamo tac minchia tanti ne ho presi mi hanno detto vabbè cerchiamo di capire i nemicoli non muore perché porca troia dai se c'hai una fibra ottica 100 mega overpower cazzo raga non vedo l'ora che arriva dad eh sì vabbè questi qui hanno abbandonato la partita comunque raga stavo dicendo non vedo l'ora che arriva dad e così mi prende per il culo quando io sclero perché sclerare da solo non è tanto carino comunque cerchiamo di capire se adesso sono nati qua dietro o no ah sì 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 eh sì sto facendo 11 dieti mamma mia non riesco a parlare ragazzi non pigliatemi per il culo perché non riesco a parlare sto sbavando no vabbè sbavando no ma mmm che nervoso parlo commento mi sposto come un idiota poi mi arrivano di fianco dai muori comunque raga il type 25 non è proprio malaccio come arma eh pensavo peggio ma si fa mmm madonna che campione del cazzo vabbè spero che mettiate un mi piace solo per la scherrata in live raga perché sto più scherrando che facendo kill cerchiamo di capire guardalo là facciamo così ta 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 preso ok voglio prendere un altro attacco fulminio prima che finisce la partita se no non sono contento approvv... muori uno qua ce n'è qualcuno no io direi di andare a prendergli la piastrina te la fotto te la fotto è mia la piastrina non devi rompere il palo uh cosa ho trovato cosa ho trovato è una cosa che non dovevo prendere mamma mia mamma mia andiamo su al centro mappa c'è una testa c'è una testa ah l'ha ammazzato l'attacco fulminio fanculo dove cazzo vado per ammazzarne uno guarda so già che me ne ritrovo cinque davanti ok uno l'ho trovato mer no perché dai che palle mamma mia di qua e di qua ma che cazzo vuoi fare ti giuro che se mi prende saltando in quella maniera alla matrix gli sputo in un occhio perché gli sputo ma perché non muoiono c'è qualcosa che non va raga all'ultimo colpo che manca per farli fuori non crepano boh allora cerchiamo di capire se adesso sono eccolo lì preso 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 vai c'è una N94 ma non la prendo perché ho deciso di usare quest'arma e quest'arma uso non me ne frega un cazzo se vado in negativo vai così andiamo di qua a vedere se c'è qualcuno di qua di qua non c'è nessuno ah si c'è qualcuno di qua c'è qualcuno di qua e anche qui aspettiamo che esce dal muretto intanto lì non c'è nessuno si c'è qualcuno ok no vado dentro che non mi fido ok qua non c'è nessuno andiamo sopra 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 no che cazzo vado sopra no di qua di lì è pieno di lì è pieno vai infatti è pieno però ho fatto assist che palle ok sono ritornati di qua raga vai così e vai così ok mi manca un po' che c'ho l'attacco fulminio ragazzi vai così no cazzo vabbè ho fatto il risultato un po' merdino però ho detto nel ruoto comando precedente che vi presentavo un po' tutte le armi e così faccio tanto caldo abisuale morte di uno con l'N94 ragazzi prossimo episodio cambierò modalità perché voglio cambiare anche modalità visto che vanno di moda anche tipo le partite su dominio veterano o cosa che è forse postazione non mi ricordo più e se vi è piaciuto questo episodio vi ricordo di lasciare un bel mi piace che a me fa sempre tantissimo piacere vedere le vostre mi piace un bel commentino soprattutto per prendermi per il culo per la mia voce un po' da dislessico perché c'è male alla lingua e noi ci vediamo magari domani con un altro episodio del ruoto commander bello ragazzi alla prossima ciao Grazie a tutti.